Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Ninja, la collaborazione con Chikaboom e questa volta sembrano che le cose siano più grandi di tutti i sensi le Tartos, Tartaruga Ninja e Squish esatto, dove i Kunis di Tartaruga Ninja abbiamo un altro pacco, il doppio più grande di quella dell'altra volta e il doppio più pesante rispetto a quella dell'altra volta cosa ci sarà? sempre da Chikaboom, questa volta sappiamo già cosa c'è Spider-Man dovremmo avere gli elasti top di Spider-Man simile, pesantuccio eh, vediamo cosa e quanto abbiamo perciò ringraziamo ancora Chikaboom e vi ricordiamo di acquistare nel loro shop col codice NIC giù 20 riceverete il 20% di sconto su tutto il catalogo online di Chikaboom quindi Malvin Mission Arena tutto quello che vedete con il nostro codice avrete il 20% di sconto grazie ancora Chikaboom e andiamo a spacchettare vamos eccoci qua ragazzi dopo le tartarughe ninja dopo i Kunis Squish Battle abbiamo fatto già tantissime battaglie sì, Teenage Ninja Tartus si è fatto tutti nuovo pacco ecco, Chikaboom esatto nuovo pacco targato Chikaboom sempre con il loro bellissimo scotch Chikaboom è la sicurezza sì ricordatevi ragazzi NIC giù 20 20% di sconto spettacolo tutto il catalogo online allora andiamo ad aprire perché è bello pesante prodotti fantastici addirittura sta per uscire il gioco da tavolo di Naruto spettacolo già in prevendita con soli 10 euro usate il nostro codice è pagato ancora meno ancora meno vai andiamo 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 guardo prima io vai guardo prima io cos'è? si capisce già? oh ok si vede una cosa rosso guardate la situazione ti fa intrigante c'è uno Spiderman confezioni piccole e una grande ah però che confezione ah ma è pesantissimo ma è gigantesco ma è pesantissimo oltre Spiderman Miles Morales questo eh sì c'è anche scritto c'è anche scritto ma è pesantissimo Giulio pesantissimo sentite mamma mia è pesantissimo cos'è? è pesante allora è questo questa volta nessuna lettera che ci parla di cosa è il contenuto ma comunque lo conosciamo ma sappiamo sappiamo già tutto esattamente e qua abbiamo anche quello un po' più piccolo che andiamo a vedere dopo il prezzo di un Elasticorps Elasticorps c'è scritto adesso a memoria non ricordo sto cercando ma non lo vedo è scritto non lo vedo neanch'io ehm andate sul sito e usate il codice esatto fate prima dai trovate il link ovviamente nel primo link in descrizione per scoprire tutta la collezione e lo shop online Nick Juventi ricordiamo esatto adesso il prezzo non lo ricordo ma questo è veramente più di 2 kg pesantissimo pesantissimo quello andiamo ad aprirlo per primo allora per prima di aprirlo andiamo a vedere anche l'altro da chiuso andiamo a vedere anche l'altro da chiuso che è Carnage Carnage sempre Elasticorps noi vediamo la collezione completa la collezione completa Elasticorps e Europop leggiamo tutta la collezione con Spiderman Miles Morales Ghost Spider Spiderman Venom e Carnage e poi sono quelli Maxisides Spiderman Venom e Miles Morales Spiderman Ah ok quindi abbiamo una di entrambi le le size diciamo le dimensioni questo è quello piccolino e questo invece è il Maxisides che possiamo trovare 3 e abbiamo trovato Miles Morales ma c'è anche Spiderman e Venom è comunque molto molto bello e se ovviamente secondo me io ne acquisterò un altro si perchè sono molto belli adesso andiamo ad aprirle infatti c'è scritto anche qua Maxisides try me provalo senti qua come è bello squiscioso iniziamo qua piccolino partiamo dal piccolo andare a grande che stessa ce la fa ad alzare quello la stessa eh voilà ah plastichi si però attenzione a non tagliarti eh magari ti da una maniera così di lato esatto il prezzo neanche qua lo vedo e comunque lo però lo possiamo utilizzare in diversi per diverse azioni diciamo per antistress con i pull-its squishy e per divertirsi semplicemente voilà ti tolgo tutto questa plastica che c'è qua evviva voilà vai Stefano ma si tira via no è ancora coperto da plastica vai si eccolo lei oh guarda oh oh com'è no bellissimo super soddisfacente nooo ma è gommoso super soddisfacente ma guarda te proviamo ad allungarlo non ti spesso veramente ragazzi indistruttibile non ci credo spettacolo bellissimo davvero indistruttibile guardate che bello sembra una palla ma ti credo che sarà anche difficile farlo stare in piedi eh il resto alla fine video lo proviamo se sta in piedi no non ci sta in piedi no è troppo pesante è abbastanza pesante ma questo qua quello che stiamo per aprire ora già questo pesa pesa abbastanza mezzo chilo secondo me c'è scritto questo non c'è scritto però si questo ci sta da qualsiasi parte perché è squisci spettacolo è anche indistruttibile si spettacolare dopo lo mettiamo a confronto col piccolino col grande il piccolino e questo è il doppio e ora il maxisides questo lo apri io visto che io sono maxi lo apri io maxi morales vai vai apri io sefa forse quando serve no 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 se la facciamo distruggendo latrone apriamo qualcosa di un supereroe e non abbiamo la forza per aprire una scatola appunto sarebbe vergognoso oh 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 vai lascia lascia te la lascia la foto oh di là wave 1 quindi la prima serie oh di là oh di là si va bene regà bello anche lo sfondo bello questo eh lo usiamo come sfondo ma è spettacolare giulio eh è spettacolare mamma mia che bello è pesa un casino però guardate i dettagli sembra una palla da basket si è vero i dettagli della ragnatela si davvero bella un metro eh simbolo anche qua spiderman vedete possiamo utilizzarlo come anti stress squishy e per divertirsi fan gli elasticorps gli elasticorps di spiderman hero pop marvel spiderman della chica boom anche qua abbiamo la stessa serie come le classiche si è la stessa collezione mettiamoli a confronto semplicemente abbiamo quelli piccoli e quelli grandi quelli grandi quelli grandi sono solo 3 dentro c'è tipo sabbia si sembra si è rilassante molto che puoi fare così ma che bello è veramente si si ti rilassa carnage qua anche anche per la riabilitazione della mano così così davvero davvero bello complimenti vediamo se lo lanci dall'alto no perchè di solito si ferma mettiamoli a confronto spettacolo c'è la differenza abissale si sia di peso che di grandezza incredibile però c'è per essere fatti di questo materiale qua hanno dei dettagli incredibili si guardate qua le diciamo le scanature di spiderman si si proprio bella 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 e non oso immaginare quanto sia bello spiderman in sé perchè questo è maestrale ma infatti spiderman classico esatto sarebbe non è sarebbe squisci wow si si antistress squisci e fun questi elastico zero pop tira un po' di last vai ragazzi indistruttibili in tre lo stiamo tirando uno spettacolo incredibile davvero davvero bello guardate torna normale sembrava che lo tornava normale vero? ah si 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 era gonfiato qua ma ragazzi no è normale spettacolo questi spiderman marvel guardate guardate chica boom si elastic horse hero pop marvel spider wave 1 numero 1 chica boom puoi fare i pesi perchè sembra una palla una palla di un sacco di patate si si puoi fare un sacco di patate si si pesa pesa molto molto bello quando noi abbiamo un altro spiderman esatto lo mettiamo insieme in compagnia ecco infatti tutti la tutti in braccia con lo spiderman vai spettacolo anche questo è bello anche questo è bello questo deve mettere così come cuscino bellissimo ringraziamo ancora chica boom complimenti a chica boom per l'idea complimenti per la realizzazione perchè sono di una di una qualità di un materiale davvero incredibile nick giu 20 per averlo col 20 per cento di sconto esatto ma non solo questo perchè tutto il catalogo online con il codice nick giu 20 avrete il 20 per cento di sconto grazie ancora a chica boom e direi che possiamo andare ai saluti e dopo a rilassarci con questi bellissimi elasticorps hero pop di marvel spiderman di chica boom grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti